Ciao, a cosa servono gli psicofarmaci? Gli psicofarmaci hanno una funzione sicuramente ben precisa che è quella di portare nelle casse delle aziende farmaceutiche 320 miliardi all'anno che è una cifra enorme, diciamo così. E allora le case farmaceutiche sponsorizzano l'utilizzo degli psicofarmaci per cui oggi c'è gente che prende psicofarmaci perché le ha lasciato fidanzato o perché ha problemi col fidanzato o con la fidanzata perché, che ne so, non riesce allo stress di svegliarsi al mattino per andare a lavorare e insomma si inventano milioni di malattie e si invitano le persone a prescriversi il sintomo per cui la persona anziché fare un percorso di crescita spirituale non sapendo dove sbattere la testa va a sbattere in farmacia e va a contribuire all'arricchimento, diciamo così, delle case farmaceutiche e invece bisognerebbe imparare, diciamo così, che se ci guardiamo dentro dentro di noi c'è la soluzione Anestetizzarci attraverso dei farmaci comporta semplicemente rendere ancora più forte la causa e perché poi si rimanifesterà in altro modo, in modo più virulento una volta superato l'anestesia del farmaco un po' come fanno i batteri che certo vengono sconfitti dagli antibiotici ma poi si rafforzano e tornano ancora più virulenti e più forti e quindi l'unica funzione utile degli psicofarmaci è proprio quella di utile per le case farmaceutiche di arricchire le case farmaceutiche impoverendo però tutti gli altri sia economicamente sia anche mentalmente bene, per questo video è tutto se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici ciao